un tipo calvo a 4 ad che fa tutte le copertine no perché è piuttosto sembra che ne ha preso un po di cose prima di fare la copertina interessante, spooky comunque chi vorrebbe telefonare appunto per chiedere una domanda a Lush c'è la possibilità 0583 766 301 subito dopo la break ok eccoci di nuovo con Lush che appunto è quite a big success quite frankly con il primo album and seemingly going around the world on tour, you know, America, Japan probabilmente Isle of Wight, I don't know, you know no, non abbiamo fatto l'Isle of Wight, non l'hanno affatto l'Isle of Wight stavo dicendo, primo album, un successo anche mondiali se ci pensi perché hanno già fatto un torneio del mondo, suonato non soltanto negli Stati Uniti che insomma ormai è sempre un bel passo per qualunque band europeo ma anche addirittura sono stati in Giappone comunque c'è una telefonata in linea, sentiamo chi c'è, hello, pronto? sono Cinzia Cinzia, ciao, da dove ti chiami? da Milano da Milano, Cinzia Cinzia, tu parli in inglese, vorresti fare le domande a te o faccio io? no, almeno fai tu, parlo poco e male no, vai, va bene, come io parlo in italiano allora no, non ti preoccupi qual è la domanda? dunque, volevo sapere dai Lash, cosa ne pensano della stampa inglese? perché prima trattavano bene certi tipi di gruppi e perché ora invece li stanno un po' insomma, trattando malino, ecco cosa pensano della stampa inglese? esatto right, that's interesting what do you think about the English musical press? they think that grande risato no, hai visto? cosa ne pensano della stampa inglese? probabilmente è quello che penso anche io no, er perché diceva Cinzia prima trattato sorry, I'm speaking in Italian I'm translating in Italian Cinzia, sorry I'll answer allora, noi abbiamo detto che ah, sì she was saying, right, that before they used to, you know, treat bands in the 1670s with quite a bit of respect but she used to kind of chop everybody these what do you think about the musical press? especially for our kind of band, it's like especially for our kind of band they build them up and they knock them down they costruiscono e appena costruiti e danno la stangata così they're constantly looking for like new bands to, you know and then they sort of hype them and they say, oh, this band's brilliant, this band's brilliant dicono, questi sono fantastici, questi sono fantastici and then they get bored of saying, this band's brilliant poi si annoiano a dire, questa banda è fantastico e lo stoppano sì, che fa cagare, insomma pochi parole e l'idea spero che rendo l'idea Cinzia infatti è vero la stampa inglese è allucinante sì, era questa l'impressione che avevo avuto eh? era questa l'impressione che avevo avuto anche io sì, sì, ma hai avuto un'impressione giusta ti posso assicurare senti, mentre ci sei in TV faccio la fenna in TV per dire la tua voce faccio autografare certo, la copertina è tutta nera quindi qui Mickey sta cercando quali spazio è sign it on the inside ok? e faccio filmare sui copertini dall'interno ok? Cinzia from Milan and Chris e mentre siamo in l'inizio c'è che stanno facendo questa autografia passiamo al secondo video che l'abbiamo che è una live Super Blast shows the band actually playing live, right? yeah Super Blast which I imagine is what you I don't know, I mean it must be much more fun I should imagine playing live than making videos and I don't know being in studio yeah no perché infatti qui Mickey sta dicendo che non piace a girare i video nell'aspetto che lei trova particolarmente noioso del lavoro che fanno quindi questo è comunque Super Blast live sul palco Lush non sono non devo dire che non sono mai stato con una band in intervista che Simone dei Risati guardando il loro video è interessante anyway quei Mickey che stavano ridendo come pazzi al video lì perché si dicono è interessante vedere il video perché lo guardiamo ben poco comunque sono in ah no l'ho occasione di vederlo poco non voglio dire mi immagino perché sono in tornei attualmente in Italia ora visto che abbiamo visto una video live Super Blast mi piaceva anche darvi le date che stiamo facendo questa settimana in tornei quindi domani sera sono a Roma al Palladium domani sera poi mercoledì sono a Napoli ad Havana Club se non vede neanche a chiunque cosa interessante no? l'Havana Club l'ho detto che sembra che stai riusciti a qualcosa che ho detto lo so è il tuo accento giovedì sono a Castelfranco Emilia provincia di Modena teatro della Dara venerdì a Umberti di Perugia e poi finiscono sabato il tredici a Maiolo a Venezia venezia a Mitos ok questo è il tornei quindi è un'esperienza che si gioca ogni mattina ogni mattina ogni mattina l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto è un po' vedendo se hanno iniziato a pensare concepire o anche ideare uno nuovo LP a cui penso che non ci vuole tradurli perché se lo avete visto chris ha fatto sempre una mossa così negativo se hanno intenzione di fare un altro album invece sì so about the intensity of doing an album how would it be in what still the four yeah sempre in quattro because l'ho notato i mean è un suono molto pieno it's a very full sound for a four piece band on stage i mean there aren't any tricks or trappings attached to that i mean ci sono delle delle basi di computer un veloci macintosh nascosto dietro con un harddisk e fa i mean what's it like or is it literally just plug in and go just plug in and turn it up loud plug in and turn it up quindi è proprio la sua da comment è rimani così the idea is to remain to stay as a simple four piece band no it's just that none of us can work a computer no 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 and so for at the moment it's literally touring so when you finish italy what's up we go israel in italia israel for a week in israeli per una settimana and then we're doing this thing in america called lalapalooza which is like poi andiamo in america per fare un progetto chiamato with like a chili what what's it called lalapalooza lalapalooza yeah which is right with red hot chili peppers song garden chili peppers ice cube sorghum juice america jesus america pearl jam pearl jam una grande cosa una grande torne so that's a big sort of touring festival like che è una grande festival che non c'è possibilità che una torne di questo genere tocca anche in italia there's no chance of it coming over to italy i doubt it i doubt it why why do you doubt it i think when they were talking about taking it over to hawaii you know which is like but that was going to be too much problem you know just because it's such a massive you know the normità di mettere in piedi è una festa di questo genere all right ok well look grazie molto per essere venuti thanks a lot for coming out and having a good giggle together anyway uh abbiamo una picolarizzata insieme thanks a lot thanks a lot and boccolupo anche con il tornei che appunto parte domani sera dal palladium a roma e finisce appunto al mitos in maiola a venezia sabato sera lascia thanks a lot thanks a lot ci vediamo dopo grazie 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 a tutti